e durante la conferenza stampa di cui parlavamo prima ha annunciato che saranno inviate una serie di lettere al Presidente Napolitano ogni volta che ci sarà la firma a un decreto considerato incostituzionale. Allora sentiamo Laura Castelli. Il Presidente Napolitano possa nel momento in cui si trova a firmare un decreto che esce dalla Camera o dal Senato capire e comprendere bene quali parti sono incostituzionali. Visto che fino ad ora ha firmato parecchi decreti che erano incostituzionali senza copertura noi vogliamo tutelare la sua figura di tutela della Costituzione e quindi informarlo in maniera tempestiva. Il Movimento 5 Stelle sottolinea inoltre che questa iniziativa procede parallelamente a quella della messa in stato d'accusa del Presidente Napolitano e Giorgio Sorial assicura, la vedrete presto, è tutto.